La sicurezza dei cittadini al primo posto. Il vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli, ribadisce l'importanza della messa in sicurezza dei laboratori nazionali di fisica nucleare, del bacino acquifero e dell'intero sistema del Gran Sasso. Una vicenda molto complessa finita nelle trita carne del meccanismo mediatico ed esacerbata dalla posizione della società autostradale Strada dei Parchi, che aveva minacciato la chiusura del traforo. Tutto nasce e ricostruisce il vicepresidente Zoccoli dall'individuazione due anni fa delle tracce in tre casi distinti di sostanze nell'acqua del bacino acquifero del Gran Sasso, tra le quali clorometano e cloroformio, trovate, ribadisce Zoccoli, in quantità estremamente basse e molto al di sotto della soglia di legge. Non c'è stato alcun inquinamento delle falde acquifere da parte dei laboratori di fisica nucleare, ci tiene a precisare il vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per il quale resta però prioritario affrontare il nodo della messa in sicurezza dell'intero sistema Gran Sasso e si dice d'accordo con la nomina di un commissario che coordini tutti gli enti che in qualche modo insistono su di esso. Oltre ai laboratori, anche la società autostradale e l'acquedotto Ruzzo, perché è impensabile che ciascuno procede per conto proprio, dice. E intanto è fermo al Senato l'emendamento che prevede l'individuazione di un commissario ad hoc per il Gran Sasso, per il quale l'esecutivo sta ancora cercando la copertura finanziaria. Poi ci vorrà il tempo tecnico per la conversione del decreto in legge nell'ambito del cosiddetto sblocca Italia. Quanto alla sicurezza del Gran Sasso, il vicepresidente dell'INFN spiega siamo disponibili a fare tutto il possibile per migliorare. Abbiamo a tal fine affidato a una società esperta un piano di dismissione di due dei più importanti esperimenti, Borexino e LVD, giunti comunque alla fine della loro funzione e che utilizzano una grande quantità di sostanze come l'Opseudocumene e l'Acquaragia, piano che partirà entro la fine del 2020. Intanto i laboratori del Gran Sasso hanno attivato una serie di azioni preventive. Una società esperta nel campo consegnerà entro la fine del mese la propria analisi sulla relazione della Procura della Repubblica che indaga, fra gli altri, anche alcuni esponenti dei laboratori per presunto inquinamento delle falde acquifere e sulla base dei risultati proporrà una serie di azioni da attuare. Procedono inoltre le video ispezioni delle condotte dell'acqua di scuola e delle condotte dell'acqua potabile per tenere sotto controllo eventuali criticità. Verrà migliorato inoltre, aggiunge Zoccoli, anche il sistema di monitoraggio delle acque dentro ai laboratori.